Allora, l'attuale scenario di mercato vede tassi ai minimi che rimangono ai minimi nonostante le aspettative sempre ottimiste, volatilità che quella ai minimi di certo non è, bensì diciamo ai massimi, se di concetto di minimo massimo vogliamo parlare. Bene, all'interno di questo contesto come si coniuga l'offerta commerciale di AXA. Grazie, effettivamente è vero, tassi ai minimi, volatilità ai massimi sono una combinazione difficile da affrontare per un consulente finanziario e soprattutto per un cliente finale. AXA Investment Managers nella matrice, nel suo DNA ha chiaramente l'essere un gestore con delle connotazioni di particolare prudenza. Nasce da una compagnia assicurativa e quindi questo approccio prudente tende a portarlo all'interno di tutti i suoi strumenti di investimento. In questo momento riteniamo che sia fondamentale, nonostante sia un termine ormai abusato, a nostro avviso una abbondante e ampia diversificazione e altrettanto termine abusato, ahimè, una discreta flessibilità nell'allocazione del portafoglio. Proprio per questo motivo all'interno della nostra offerta i fondi che riteniamo più adeguati a questo momento di mercato sono per la porzione obbligazionaria del portafoglio, il Global Strategic Bond, che è un obbligazionario globale, classico Global Aggregate, con quindi un'abbondante diversificazione, un'ampia diversificazione che spazia dal governativo alla yield, però un altrettanto abbondante e ampio margine di flessibilità, un livello di duration che può variare da 0 a 8, è importante segnare lo 0, è un fondo obbligazionario e un investimento obbligazionario deve avere una duration. La diversificazione insieme alla flessibilità creano, secondo noi, una soluzione adatta ad uno scenario fatto di bassi tassi di interesse e, ahimè, alta volatilità. Altrettanto per la componente rischiosa del portafoglio, il Global Optimal Income è un fondo flessibile, Morningstar credo lo metta proprio nella categoria dei flessibili, è un fondo che investe in azioni a livello globale, può investire da 0 a 100, ha chiaramente un'esposizione neutrale a 50, quindi una sorta di rivisitazione in chiave moderna, rivisitazione creata per un mercato con un'alta volatilità dei vecchi bilanciati, quindi quel tipo di esposizione con un ampio margine di flessibilità intorno alla mediana. Questo fa sì che lo strumento possa adattarsi rapidamente ai mutevoli momenti di mercato. Questo in sintesi. Grazie mille.